Quante l'urense e il gaffinico ha detto il suo discorso, è il Bartolome Martinenc, una persona grande e famosa del Vila Ciara, che l'era poi uno dei più separati delle cose di guerra, e l'ha attaccato a parlare a lui, e l'ha detto Comandante, come che fate a trattenere per te che il tencè? Che maniera fin adesso te gira e andiamo a fare la tua vendetta per un'offesa compagna? Sarà mia che magari te sei fidale per denotare, e sei che in tante occasioni te mi siamo metti tutti alla prea a combattere. Ma come che fate a sopportare tutto quello che è succedito a Romani? Te sei che tutti i nostri nemici sia pura dei nomi e dei tuoi soldati, perché siamo in sebravi e del duplai armi. Adesso, Comandante, la Sommela le ha aspettato, è ora di farlo. Te decise che devi fare, e non teniamo a Romadrede per tutti, e staranno sempre ai tuoi ordini. A senti che le parole che, tutti i conduttori di un'armi, i sei leate in piedi, e ha battito le mani, e subito, ha tracciato insieme delle scelte di un'armi, pronti a combattere. Dunca, io ho portato le armi sui cari, e poi io ho fatto venire in un bursù bel grosso, un tetto da salve al volto, dei canù, delle scale, e tutto quel che serve per raggiungere insieme al muro del castello e passare insieme a suora. Dall'epoca, l'esercito dell'Urens, il rabbi Andrea Marcià quacquattro verso Manning. E quando arriva là, il metto da le sentinelle su tutte le strade d'Acesse, e gacciapato tutti i terri intorno al castello. Ma su, a Romane, che sarebbe incursito che il nemis le radriano in un sacco. Tutto in bordo, che è dell'Urens, il mandato un messaggero sotto la porta del castello, che le radriano. E quando lui le ria là, il gadicco la sua us bella forte. Oter che si denche la furtesa, che la cittadella che scultibè quel che vi dise. Il comandante dell'esercito di Venezia e l'Urens de Ceri, che l'è rinomato per la sobraura del combattio, e il mandato di crema e fina che di otter, per favsai, che reclama per lui e il vostro castello e tue qualche gedent, persone e robe. Se c'è di mia sobet, Romanei la sarà assaltata dai suoi soldati e riducita nei gotti. e che si chiede. Allora, il comissare Bassià, che l'era dell'altra banda della porta, il gare spondì. Ma, Goldwehr decurrà che la furtesa e che la terra che. E Vörenia c'è digela a cuore leggera in nemis. Non come le nostre truppe, e le nostre frecce le va a segne e le coppa. Dighe però al tuo comandante che sarendo mia. Con mia pura della guerra e sulla tutta se piego mia dei urden che per noi tergli è mia gioste e che gli dà con la gran superbia e presunzione. Il Signore il sa sempre chi l'è della banda buona e di Calacatia. Il farà ben lui chi l'è che il Garesù. Il Signore il Signore